La nuova casa dello sport di Forlì, che so che avete appena inaugurato, cosa vuol dire questo nuovo posto di lavoro, qualcosa che identifica ancora meglio il ruolo che deve avere lo sport, che ha lo sport in particolar modo qui in città? Sì, è una struttura a cui è stata ridata una vita anche da un punto di vista istituzionale che diventerà il punto di riferimento istituzionale quindi per la città dello sport perché verranno trasferiti appunto gli uffici dello sport, un grande polmone sportivo che sicuramente nel 2017 ma anche nel 2018 sarà oggetto di tante attenzioni e sicuramente di un rilancio molto importante. Quale altra novità riserva la tua funzione per la città di Forlì? Un altro grande evento legato al mondo del ciclismo che è un altro grande mondo rappresentato nel nostro territorio non solo forlivese ma anche romagnolo che è il Giro d'Italia di Lettanti quindi che sarà adesso ufficializzato però che posso anticiparvi avrà sia una tappa di arrivo che una tappa di partenza a giugno. Quindi direi grandi momenti, io rilancio in cantiere sicuramente per la seconda metà dell'anno e poi anche nel 2018 stiamo organizzando, vorremmo mettere in cantiere anche un grande evento appunto dedicato al mondo del biliardo perché credo che se lo meriti.